Il momento è ancora roncato, ci siamo visti l'anno scorso a Tarifcia in un'altra manifestazione e questa sera ci vediamo per gambe. Tu qui non fai nulla. Ma io con una parola vengo a vedere tua figlia che fa Beatrice. Mia figlia che fa Beatrice perché io sono il papà di Beatrice in questo momento. Però noi ci vedremo prossimamente al premio cittadino di Velleri per la carriera cinematografica perché tu sarai uno dei premiati di questo nuovo anno, la quarta edizione. Sono molto piaciuto. Allora ci vediamo tutti il 18 novembre a Velletri per il premio. Non si potrebbe fare anche il premio, io non vedo l'ora di venire la premio. Purtroppo abbiamo stabilito quella data. Allora ci vediamo a novembre. Ci vediamo lì a novembre, il 18 novembre a Velletri, ci sentiremo per tenere. Buona visione di questo film e ci vediamo alla prossima. Ciao Andrea. Ciao Andrea.